Black Friday, ovvero quel periodo dell'anno dove ci sono offerte un po' dappertutto e ovviamente non poteva mancare il PlayStation Store. Noi come sempre andiamo a consigliarvi quelli che sono 5 giochi da acquistare su PlayStation 4, approfittando proprio delle offerte del venerdì nero. Andiamo subito a partire con un piccolo avviso, cioè tra le offerte è anche la possibilità di acquistare il PlayStation Plus. La versione annuale, insomma, lo trovate al 25% di sconto, quindi 45€ invece dei Canon C60. Se magari avete anche delle PlayStation Card non sfruttate o cose del genere, potete andare a risparmiare diversi soldini e andare ad abbonarvi online e prendervi anche i giochi gratuiti del mese. Ma andiamo proprio nelle offerte vere e proprie che, vi ricordo, dureranno fino al 2 dicembre, ovvero si concluderanno la notte tra il 2 e il 3 dicembre, credo a luna di notte del 3 dicembre appunto. Partiamo subito con il primo gioco della lista, ovvero FIFA 20. Non posso non consigliarvi FIFA 20 perché è uscito da poco, è il calcistico ogni anno di riferimento, anche se quest'anno c'è Pesce che comunque gli sta scolofiato sul collo. Lo trovate a 45€ invece dei Canon C70 con il 35% di sconto. Non ci sarà la Juventus, ma avete la possibilità di giocare con il Piemonte Calcio di Mark Lenders, quindi cosa dire di più? Insomma, è un gioco che non ha bisogno di grandi presentazioni e se siete appassionati di calcio e vi piacciono i titoli sportivi, andare a giocare con gli amici online, Ultimate Team, insomma, è il titolo che fa per voi se siete quel tipo di giocatore. Secondo gioco della lista, andiamo abbastanza in fretta e prendiamo Borderlands 3. Anche qui siamo di fronte a un titolo recentissimo, ragazzi, qui ho preso solo giochi usciti nel 2019, quindi tutti i titoli arrivati da poco sul mercato. Borderlands 3 è l'attesissimo ritorno della serie 2K, ovvero quel looter shooter che ha dato inizio un po' al genere, che li ha resi popolari. Gioco cooperativo online dove potete giocare con altri tre amici, se non ricordo male. Paratutto super divertente con la grafica in cel shading che lo rende sempre molto bello da vedere. Titolo che introduce un livello di tamarraggine importante che vi permette, insomma, di andare a raccogliere qualsiasi cosa, armi di qualsiasi tipo e divertirvi un po' con gli amici. Potete fare davvero tante cose all'interno di Borderlands 3. Lo trovate al 42% di sconto, uscito il 13 settembre, quindi da un paio di mesi, 40€ invece dei canonici 70€. Titolo successivo, potrei anche utilizzare la ricerca, effettivamente, sì, andiamo con ricerca che sta qua e prendiamo un gioco che è stato richiestissimo per anni. Eccolo qua. Il ritorno di Crash Team Racing è stato atteso da tantissimi giocatori, per tanti è l'unico vero rivale di Mario Kart. Quindi Crash Team Racing Nitro Fueled è ancora oggi un titolo che divide gli appassionati di giochi di kart, tra chi dice che è meglio Mario Kart, chi dice che è più tecnico CTR. Insomma, comunque voi la pensiate, se avete PlayStation 4 è il gioco di kart da possedere. Crash Team Racing Nitro Fueled riprende il primo capitolo della serie, quello sviluppato da Naughty Dog. Una remastered plus, diciamo, perché viene arricchito con nuovi contenuti, rifatta la grafica. Insomma, un gioco moderno a tutti gli effetti, se non magari nelle meccaniche che in alcuni aspetti rimangono un po' quelle del passato. Comunque sia, 26€ rimane un gioco assolutamente consigliato, 35% di sconto lo prendete invece dei, appunto come dicevo, 26€ invece dei canonici 40€. Gioco successivo, andiamo a un altro titolo un po' particolare, ovvero The Outer Wars. Qui siamo di fronte ai ragazzi di Obsidian, dei maestri dell'RPG, dei giochi di ruolo. Un titolo che è per certi versi l'erede spirituale di Fallout New Vegas, anche se ovviamente ci sono tantissime differenze a partire dall'ambientazione. Qui siamo di fronte a un'ambientazione spaziale, la possibilità di andare su diversi pianeti, fare cose, portare termini di missioni, ovviamente sempre tutto con il solito humor che caratterizza i lavori di Obsidian. Anche qui abbiamo una buona scontistica se si considera che il gioco è sul mercato da appena un mese. Abbiamo fatto il 25% di sconto e ve lo portate a casa, 45€ invece di 60. L'ultimo gioco della nostra selezione è un titolo che va un po' contro quella regola che mi ero dato dei titoli usciti solo in questi ultimi 12 mesi. Anche se in realtà è un po' un trick che ho sfruttato visto che appunto Monster Hunter World Iceborne, la massiccia espansione di Monster Hunter World, è arrivata proprio durante il 2019. Nello specifico vi consiglio dell'edizione maestro di Monster Hunter World, ovvero questa edizione che include non solo il gioco principale, ma appunto anche la massiccia espansione. Perché la chiamo massiccia espansione? Perché è così che Capcom continua a chiamarla all'interno della schermata di descrizione e mi ha fatto molto ridere che anche all'interno della lista dei contenuti venga chiamata così. Insomma, andando a parlare del gioco, Monster Hunter World porta la serie su PlayStation 4 e sulla generazione attuale con un titolo che prima del lancio aveva suscitato diverse polemiche, qualcuno aveva storto il naso per alcune semplificazioni, ma insomma alla fine si è rivelato un gioco mastodontico con un buon numero di mostri, tantissimi magari no perché se no venite nei commenti a uccidermi. Comunque, tante meccaniche divertenti, Iceborne è addirittura praticamente un gioco a sé, quindi con 40€ vi portate a casa centinaia di ore di contenuti per giocare con gli amici e abbattere alcuni dei mostri più belli mai visti anche solo per la grafica, insomma, che come potete vedere non è affatto male. 33% di sconto, come dicevo 40€ invece dei canonici 60. E con Monster Hunter World si conclude la nostra top 5 dedicata ai giochi PlayStation 4 in offerta per i Black Friday. Vi ricordo che in giro per il sito e su YouTube trovate anche un'altra top dedicata ai giochi PlayStation 4, quelli a meno di 20€, nonché anche un video piccolo dedicato a 5 giochi da acquistare su Nintendo Switch e un altro dedicato agli sconti dell'Ubisoft Store. Come sempre poi vi ricordo di andare nei commenti e scriverci quali sono le altre offerte che secondo voi vale la pena tenere d'occhio, di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutti i nostri contenuti e perché no, anche su altri video dedicati ai Black Friday e di lasciare un bel mi piace al video se vi è piaciuto. Ciao e alla prossima!